Come da vostra richiesta abbiamo disegnato sul muro di Roblox il logo di Lion. Vi mostro in tempo reale le reazioni. Vi piace il disegno? Scommetto che non riuscite a lasciare un like prima che il logo di Lion scompaia dallo schermo. E soprattutto fateci sapere nei commenti quale prossimo disegno volete che noi facciamo.